Sindaco, cosa si sente di rispondere all'attacco di Coldiretti sulla fiera di Santa Lucia? Ma io vorrei non commentare, mi pare sbagliato prendersela con una manifestazione del territorio che ha sempre tutelato i prodotti del territorio, mi sembra che siano altre le cause e se questo mi dispiace che venga presa a pretesto Santa Lucia. Per il resto la ditta era qui, come ho sempre detto, già da due o tre anni e nessuno ha detto niente. Quest'anno non presenta nulla di transgenico di contrario a quelli che sono i nostri indirizzi di come devono essere fatte le coltivazioni il più naturale possibile, presenta un'organizzazione tecnica questa è una fiera agrimeccanica, non è che si esclude qualcuno perché non piace. Qui le selezioni, fuori gli ebrei, fuori i neri, fuori i gialli, fuori i bianchi, fuori nessuno, non esistono. Se le ditte sono serie e presentano dei prodotti delle macchine serie hanno tutto il diritto di venire perché solo così la fiera può ancora crescere ed essere un vantaggio per il territorio, tutto il territorio, dai coltivatori diretti a comunque gli imprenditori, chi produce macchinari, le scuole che producono gente preparata. Solo con questa visione andremo avanti, se no poi se ci sono altre battaglie di tipo politico non voglio saperne, non si facciano a Santa Lucia, per favore. Si parlerà di OGM anche alla Fede di Santa Lucia? Non abbiamo mai parlato e non ne parliamo, proprio per il fatto che noi anche con il marchio Terre dell'Antica Fiera vogliamo sposare la filiera corta, tutelare i prodotti del territorio, renderli più visibili. Figuriamoci se ci mettiamo a discutere di prodotti non naturali, mi pare ovvio. Poi non siamo nemmeno gente che demonizza nessuno, casomai andiamo a un confronto e cerchiamo di vedere quali sono i vantaggi della nostra proposta rispetto a quella degli altri. Però a Santa Lucia non abbiamo mai parlato e propagandato prodotti transgenici.